Al Tribunale di Giarre le temperature si sono fatte incandescenti. Stavolta non è però una metafora. Dall'inizio della stagione estiva, infatti, al Tribunale si attende l'attivazione dei climatizzatori. Solo un'attivazione perché l'impianto è già predisposto. Chi quotidianamente lavora nella calda struttura in cemento armato non riesce più a sostenere il caldo afoso ormai diventato insopportabile. Il Giudice di Pace, Agostino Crisafulli, lancia un appello affinché la situazione si sblocchi una volta per tutte. Qua abbiamo una struttura magnifica come sede del Giudice di Pace. Però stranamente, da quando è arrivata l'estate in maniera molto calda, soprattutto in questi giorni, pur avendo il sistema di climatizzazione invernale e estivo, non so per quale ragioni inspiegabili, in ogni caso non sono giustificabili, per un edificio pubblico, per una sede di un pubblico ufficio che può essere la sede del Giudice di Pace, non avere la climatizzazione per questo periodo di caldo. Per cui siamo costretti a tenere delle udienze in questi giorni con 40-35 gradi di caldo, con conseguenze immaginabili sia per gli utenti che devono soffrire nell'attesa di essere sentiti come testimoni o per qualunque altra richiesta loro facciano, e poi anche per gli avvocati e infine per ultimi per i giudici praticamente, che sono costretti a lavorare in un clima assurdo. Non penso che negli uffici pubblici comunali o di altri enti si stiesi i lavori senza essere climatizzati in un periodo come questo. Abbiamo sollecitato più volte il Comune, di cui non possiamo dire male, perché onestamente si è sempre praticato a rendersi disponibili per qualsiasi cosa, però non riusciamo a comprendere le ragioni per cui ancora oggi, già quasi alla metà del mese di luglio, ci sia ancora questo problema della mancata climatizzazione. Quindi, peraltro, nei prossimi giorni saremo costretti a fare le udienze penali, che sono tutt'altra cosa di quelle civili, con le toghe e per periodi molto più lunghi di permanenza nell'aula, in condizioni disastrose. Quindi ci vedremo costretti sicuramente a non poter fare quest'udienza, a disporre con provvedimento la non tenuta dell'udienza per questa situazione che si è creata. Quindi noi tramite voi invitiamo i nostri amministratori, che sono stati sempre cordiali, pronti, solleciti, a provvedere rapidamente all'attivazione del servizio di climatizzazione, perché altrimenti saremo costretti a sospendere ogni attività, per non dire poi, per ultimo, per gli impiegati, che vivono in maniera indecorosa, direi, indecorosa, la durata della giornata lavorativa, in un ambiente che voi stessi state provando. Quindi non c'è bisogno che vi spieghi praticamente che situazione c'è. Quindi questa è la lamentela. Noi chiediamo che si attivi rapidamente, senza più perdere un minuto di tempo, il sistema di climatizzazione, perché è un diritto giusto e sacrosanto, prima per gli utenti, poi per gli avvocati, e per ultimo per i giudici.